Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale, mezzanotte e 38 minuti in questo momento cominciamo subito con la politica, domani sarà il secondo giorno di consultazioni per il Presidente della Camera FICO, incontrerà di nuovo le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, poi riferirà a Mattarella al quale probabilmente chiederà del tempo in attesa probabilmente della direzione del Partito Democratico. Vediamo tutti i dettagli. Domani, secondo e ultimo giro di consultazioni, il Presidente incaricato e il pentastellato Roberto FICO riceverà alle 11 la delegazione del PD, poi alle 13 quella del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio salirà al Quirinale per riferire al Capo dello Stato sull'esito dei colloqui. Gli incontri di domani infatti avranno proprio l'obiettivo di verificare se gli spiragli che si sono aperti martedì per un'intesa PD 5 Stelle siano concreti, vista anche la chiusura delle trattative tra il Movimento e la Lega di Matteo Salvini, come espressamente chiesto dal reggente Martina. È probabile comunque che il Presidente della Camera chieda altro tempo al Capo dello Stato, proprio per dar modo al PD di riunire la propria direzione nazionale e poter valutare l'apertura di Di Maio, che si dice pronta a sedersi ad un tavolo per verificare le convergenze tra i programmi dei due partiti. Ma il quadro generale resta molto complicato, c'è il no dei Renziani ad ogni ipotesi di accordo con il Movimento e c'è la determinazione di Di Maio a continuare a puntare su Palazzo Chigi. Le celebrazioni del 25 aprile intanto offrono a Berlusconi l'occasione per un altro durissimo attacco verso i pentastellati. L'altro giorno, racconta il Cavaliere, ho chiesto a delle persone come si sentissero di fronte a questa formazione politica. Uno mi guarda negli occhi e mi dice credo che ci sentiamo come gli ebrei al primo apparire della figura di Hitler. Parole che Di Maio preferisce non commentare e che prova con invece l'ira di Salvini che dice sono stufo degli insulti, è meglio rispettare il voto degli italiani invece di dire sciocchezze. Le condizioni di Giorgio Napolitano che è stato operato 24 ore fa al San Camillo di Roma per una dissecazione della Horta. Il presidente è merito a una grande fibra che lo aiuterà a rimettersi presto. Così Francesco Musumeci, il direttore della cardiochirurgia del San Camillo di Roma che ha eseguito l'intervento. La prognosi resta riservata, ha detto Musumeci, ma il decorso è buono, ci lascia ben sperare. Napolitano è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove oggi ha ricevuto, tra le altre, le visite del capo dello Stato Mattarella e del premier Gentiloni. Ennesimo ricorso respinto nella vicenda di Alfie Evans. Il Tribunale anche oggi ha detto al suo trasferimento in Italia. Il bambino che ha quasi due anni è ricoverato in ospedale di Liverpool per una malattia grave e senza cura. Il piccolo, hanno detto i giudici, sta morendo. Non ci sarà quindi alcun viaggio in Italia per raggiungere gli ospedali del bambino Gesù e del Gaslini di Genova pronti a fornirgli cure palliative. Il padre non si arrende, parla di torture inflitte al piccolo, aiutato dall'ossigeno idratato e innutrito solo a intermittenza. Minaccia di denunciare l'ospedale per cospirazione finalizzata all'omicidio. Rimaniamo a Liverpool dove è in coma. Sean Cox, 53 anni, il tifoso del Liverpool, aggredito ieri prima della partita da un gruppo di supporter giallorossi, prima della partita appunto di Champions League. Per l'aggressione sono stati fermati e arrestati con l'accusa di zientato omicidio due ultra che gravitano nell'ambito dei Fedaino, uno dei gruppi storici più estremi della tefoseria giallorossa. Sono 29enne Daniele Sciusco e il 21enne Filippo Lombardi, individuati già durante la partita dagli agenti della Digos che erano al seguito dei quasi 3.000 fan romanisti in trasferta. Immediata la condanna delle violenze da parte della società calcistica capitolina, che rischia però adesso severe sanzioni da parte dell'UEFA. Intanto tutte le preoccupazioni sono rivolte a mercoledì prossimo. Data del match di ritorno, il piano di sicurezza verrà definito nei prossimi giorni dal Ministero dell'Interno. E stasera si è giocata anche la seconda semifinale, l'andata della seconda semifinale di Champions League tra il Real Madrid e il Bayern Monaco. Il Real ipoteca la finale di Kiev con una prestazione di sacrificio sul terreno dei campioni di Germania. Equilibrio per i primi 20 minuti, poi sono gli spagnoli a sfiorare il vantaggio con il destro di Carvajal. Da un pallone a centrocampo nasce lo spunto dell'1-0 da Kamis Rodriguez in verticale per Kimmich, che invece di crossare va dritto in porta con un destro sul primo palo. Navas non è per nulla incolpevole sul tiro del tedesco. Lewandowski e Ribery gettano al vento due occasioni ghiotte e proprio in vista del fischio finale sono i campioni d'Europa a colpire. Sul cross di Carvajal Cristiano Ronaldo non interviene in rovesciate, sulla traiettoria c'è il sinistro al volo di Marcelo, imprendibile per il portiere bavarese Urreich. Nella ripresa in pochi secondi c'è la svolta del match. Müller e Lewandowski sbagliano ancora e subito dopo a segnare sono i blancos. Errore di Rafinha a scatto di Lucas Vazquez che regala ad Asensio l'assist del raddoppio. E sino al fischio conclusivo è il Bayern a collezionare altre occasioni. Il Real stringe i denti e si porta a casa mezza qualificazione. L'ultimo servizio, mezzanotte e 43, la linea torna al film, l'informazione come sempre torna domattina. Arrivederci e buonanotte.